Come sempre intenzionata a far le cose in grande in ogni mercato settoriale e territoriale, la Nissan prepara la Townstar per il nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci in Italia? NIS Come sempre intenzionata a far le cose in grande in ogni mercato settoriale e territoriale, la Nissan prepara la Townstar per il nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci in Italia? Come sempre intenzionata a far le cose in grande in ogni mercato settoriale e territoriale, la Nissan prepara la Townstar per il nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci in Italia? Townstar per il nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci in Italia. NIS come sempre intenzionata a far le cose in grande in ogni mercato settoriale e territoriale, la Nissan prepara la Townstar per il nostro paese, che cosa dobbiamo aspettarci in Italia e quello che si sono augurati in primo luogo i progettisti, i dirigenti più alti della Nissan in Italia e, ovviamente, tutto ciò che ruota intorno all'area marketing e promozione, e quello che si sono augurati in primo luogo i progettisti, i dirigenti più alti. Di certo Nissan Townstar rappresenterà a breve la grande novità Nissan nel paese tricolore e come detto senz'altro, in buona parte, per il fatto che rappresenterà l'elettrica di punta del seguito. In questo senso che cosa ci dovremmo attendere da questo modello, nella USA versione di stampo elettrico? Cosa ci porterà in dote questa Nissan Townstar e quali saranno poi i prezzi, in questo senso che cosa ci dovremmo attendere da questo modello, nella USA versione di stampo elettrico? Cosa ci porterà in dote questa Nissan Townstar e quali saranno poi i prezzi, ovvero, si parla della classica motorizzazione a benzina o in alternativa la versione elettrica di cui si parla davvero tanto, ma per appunto, nel merito, quali saranno i costi? Stando a quel che è emerso, si esordisce con un prezzo di poco sopra le 24.000 euro, per la precisione 24.000 euro, ma per appunto, nel merito, quali saranno i costi? Stando a quel che è emerso, si esordisce con un prezzo di poco sopra le 24.000 euro, per la precisione 24.000 euro, ma per appunto, nel merito, quali saranno i costi? Stando a quel che è emerso, si esordisce con un prezzo di poco sopra le 24.000 euro, per la precisione 24.000 euro, ma per appunto, nel merito, quali saranno i costi? In questo senso, nei modelli a benzina si oscilla da un prezzo che sfiora i 30.000 euro e arriva poco sopra per il tipo Tecna.